guarda che meraviglia, guarda guarda qui abbiamo un bel metodo, un calabrone si vede all'interno di un ramo eccolo qua che andrà buongiorno buongiorno ci siamo portati a mina al lago di Endine e guardate che meraviglia ho visto un tronco di quelli secchi per fare il diciamo la palizzata tra una parte e l'altra e al mezzo ho notato un bel nido di calabrone ed è meraviglioso e vicino c'è appunto il lago ecco mi sono mi sono emozionato perché naturalmente è sempre un qualcosa di nuovo che si va a scoprire nella vegetazione, nel mondo animale molto bello e quindi mi sono ho registrato per farvelo vedere anche a voi vedete un po' ce ne sono un paio che ho notato le ho ripresi una più grande e un'altra più piccola vedete avevo inserito un un rametto all'interno del nido e questo questo piccolo animaletto curioso è andato a vedere dove arrivava voleva appunto cacciarlo dal nido e non ci è riuscito questo qui è come avete visto è il piccolo c'è poi quello più grande quindi aspettate un attimino che ve lo faccio vedere e eccolo qua ci sta costruendo un bel nido e quella la coppia la coppia è volato via mentre qua abbiamo mina che si sta riposando e qua invece abbiamo il lago di Endine Cayano bellissimo ciao 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 un bel posto grande e qui siamo andati alla bar che è proprio lì vicino a prendere un bel caffè e poi naturalmente abbiamo visto che è molto bello ci ritorneremo perché ci sono i pedalò da da fare un bel giretto è veramente bello tutto intorno bello soleggiato pieno di vegetazione pieno di uccelli pieno di veramente mi è piaciuto tantissimo devo ritornare assolutamente mi è piaciuto e quindi ritorneremo ciao al prossimo video ciao 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 ciao